elezioni fratelli d'italia primo partito anche nelle marche da carloni a depoli ecco i parlamentari marchigiani eletti vincitori e vinti le reazioni al responso delle urne alluvione domani a barbara i funerali del piccolo mattia nutrizione fisiradi accoglie per risir buona serata a tutti voi gentile pubblico di rossini tv ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news la prima edizione di questa settimana che è un 26 settembre in cui dedichiamo il nostro notiziario a questo primo giorno post elettorale con il responso delle urne che ha detto come il centrodestra ha sì vinto in italia ma anche ha avuto il massimo dei consensi nella nostra regione marche così come fratelli d'italia risulta il primo partito nazionale ma anche primo partito a livello regionale resiste il pd nella città di pesro vediamo tutte le declinazioni dell'analisi al voto nel nostro territorio e anche i dati all'affluenza nel nostro primo servizio le urne hanno emesso il loro verdetto la coalizione di centrodestra vince in italia vince nelle marche vince nella provincia di pesaro urbino e vince pure fra gli elettori della città di pesaro allo stesso modo fratelli d'italia diventa il primo partito del paese della regione e nella città di pesaro si ferma dietro al pd per una manciata di voti ma un secondo posto che ha ugualmente il sapore del trionfo nel territorio marchigiano si crea dunque un filo diretto fra la regione governata da francesco acquaroli di fratelli d'italia e la nazione che incorona il partito di giorgia meloni il centrodestra vince nelle marche al 44 per cento come in italia ma con circa mezzo punto percentuale in più sia su camera che su senato fratelli d'italia il primo partito della regione col 29 per cento tre punti in più del dato nazionale analoghi dati del centro sinistra a livello nazionale e regionale 26 per cento la coalizione ingalleggiamento tra 19 e 20 per cento il partito democratico meno votati nelle marche movimento 5 stelle il 13 per cento contro il 15 nazionale è il terzo polo che si attesta al 7 per cento ma con una manciata di punti percentuali in meno il centrodestra vince anche nel collegio uninominale di peso rubino 44 per cento contro una cifra vicino al 28 del centro sinistra e fratelli d'italia si attesta al 27 contro il 21 del pd andando ad analizzare il voto nei principali poli urbani del pesarese nella città di pesero alla camera il centrodestra vince 38 a 32 ma il partito democratico resta il primo partito della città con 25,4 contro il 25 di fratelli d'italia in pratica a pesero il partito di letta ha ricevuto circa 200 voti in più di quello della meloni territorio in cui scende al 12 per cento il consenso del movimento 5 stelle sulla città di fano ancora più netta la vittoria del centrodestra 42 contro 28 alla camera fano in cui spicca il 10,5 per cento alla lega del concittadino carloni ben superiore ad una media regionale che per il partito di salvini si attesta poco sotto l'8 per cento anche nella città di valle foglia gli elettori premiano il centrodestra col 43 contro il 26 fra i principali centri urbani urbino è l'unica città in cui vince la coalizione di centrosinistra 36,6 per cento contro 35 altri numeri significativi sono quelli dell'affluenza in netto calo si è infatti recato alle urne il 72 per cento degli italiani le marche col 77,2 per cento di affluenza sono al quinto posto fra le regioni in cui si sono recati più elettori alle urne dietro veneto emilia romagna umbria e toscana pisaro urbino è stata la provincia marchigiana con più affluenza al 78,5 per cento ed è una tornata elettorale che manda a roma 15 parlamentari marchigiani 10 deputati e 5 senatori sei parlamentari sono scattati in automatico già da questa mattina attraverso i collegi uninominali altri nove si stanno definendo con il calcolo proporzionale 10 deputati e 5 senatori totale 15 neoparlamentari marchigiani con la valigia verso roma che emergono da questa tornata elettorale i primi sei sono scattati in automatico nei quattro collegi uninominali di camera dei deputati e fra i due senatori che dipingono una netta vittoria 6 a 0 per il centrodestra su un centrosinistra che rimane a bocca asciutta la provincia di pesaro urbino sarà rappresentata alla camera dei deputati da mirco carloni assessore regionale ed esponente della lega che ha battuto giordano masini di più europa candidato della coalizione di centrosinistra territorio pesarese e anconetano che al senato vede invece vincere antonio depoli nel collegio marche nord parlamentario uscente depoli presidente dell'udc e rappresentante della lista noi moderati ha battuto marco bentivogli ex segretario sindacale che rappresentava la coalizione di centrosinistra l'altra senatrice eletta dall'uninominale e la coordinatrice regionale di fratelli d'italia elena leonardi che vince nel collegio marche sud alla camera fratelli d'italia conquista un altro posto in parlamento grazie a stefano benvenuti gostoli nel collegio di ancona mentre forza italia si prende un rappresentante marchigiano dal collegio ascoli fermo con la vittoria di francesco battistoni giorgia latini vince invece nel collegio di macerata portando a due gli eletti della lega la camera dei deputati e a due anche gli assessori regionali che salutano ancona e la giunta acquaroli dopo carloni e latini è però scontato anche il saluto del terzo assessore guido castelli che per fratelli d'italia è in pole position per prendersi uno dei nove posti in parlamento che saranno assegnati col calcolo proporzionale aspettando l'ufficialità che emergerà dagli stili plurinominali fratelli d'italia grazie al consenso ottenuto riconfermerà in parlamento anche lucia albano e con ogni probabilità anche il pergolese antonio baldelli che risulterebbe l'unico altro esponente della provincia di pesaro urbino oltre al fanese carloni per il centro sinistra scontati i posti assegnati ad alberto losacco e irene manzi per il movimento 5 stelle quello a giorgio fede ed è dunque una giornata storica per fratelli d'italia una vittoria che commentiamo con questa intervista che vi mostriamo a nicola baiocchi consigliere regionale e militante della prima ora di fratelli d'italia nel nostro territorio a nicola baiocchi in questo 26 settembre fratelli d'italia risulta il primo partito d'italia come consenso in un centro destra in una condizione centrodestra che ha vinto nel paese fratelli d'italia che addirittura ha avuto cifre superiori sulla regione marche diciamo così dando anche continuità a quello che il governo regionale risultati importanti anche nella provincia di pesaro che valutazione da questi numeri è una valutazione molto positiva chiaramente anche il dato regionale è molto incoraggiante perché va a premiare tutto quello che è stato fatto in regione in in questi in questi due anni sono dati indicativi ma molto molto veramente molto belli molto importanti perché premiano l'impegno del nostro presidente giorgia meloni e di tutti i militanti di tutti coloro che hanno sempre creduto in questo partito come noi anche a pesaro quando abbiamo iniziato erano solamente al 2 per cento adesso ci ritroviamo nella città di peso al 25 per cento a pochissimi voti deve essere il primo partito della città il fatto di avere una continuità tra nazione e regione molto importante per lei che lavora nel consiglio regionale è assolutamente importante perché ci sarà questo questa cinghia di trasmissione come abbiamo definito in questi giorni tra la regione la regione marche il governo il governo della nostra nazione quali sono state a suo avviso le chiavi di questa vittoria che sembrava comunque nell'area però poi serve serve c'è un tutto la campagna elettorale di mezzo ci sono tante variabili ma sono state rispettate le attese sì sono state rispettate le attese i sondaggi hanno riportato sostanzialmente quello che poi è venuto fuori dal risultato delle urne ma ha pesato sicuramente l'impegno di tanti militanti sul territorio di tante persone che hanno creduto e credono in questo partito che hanno voluto dare il loro contributo per far crescere questo partito in maniera esponenziale lei possiamo definirla una un militante di fratelli italia della prima ora al tempo era un sogno un'ambizione arrivare a questo a questo risultato come la poteva siamo definire al tempo era un sogno ma noi ci credevamo siamo sempre stati ottimisti non abbiamo mai guardato le percentuali abbiamo sempre lavorato sui territori in tutta la provincia in maniera molto molto importante cercando di crescere cercando di far diventare questo partito il primo partito d'italia e dai vincitori passiamo agli sconfitti anche nel nostro territorio il partito democratico si lecca le ferite gli italiani hanno votato ed è stata netta la preferenza che è emersa per il centrodestra in particolar modo per fratelli d'italia una vittoria storica per una coalizione che ha ottenuto il 43,8 per cento dei voti rispetto alla prima forza di opposizione rappresentata dal centro-sinistra fermatasi al 26,2 una sconfitta soprattutto del pd che anche nella provincia di pesero urbino ha visto la vittoria schiacciante del partito di giorgia meloni eccetto i comuni di pesero urbino e monte calvo in foglia eppure la stessa pesero che per storia e tradizione ha da sempre rappresentato una città amministrata e orientata verso il centro-sinistra in questa elezione ha sì visto la vittoria dei democratici ma per pochissimi voti rispetto a fratelli d'italia con il 25,46 per cento rispetto al 25,04 il verdetto delle urne ha rappresentato una debacle a livello nazionale per il pd come commentato dal consigliere regionale democratico andrea biancani ben consapevole dei temi che dovranno comunque essere trattati nei prossimi cinque anni di governo devo dire innanzitutto può riconoscere che il risultato è stato chiaro nel senso che il centro-destra ha vinto queste queste lezioni il centro-sinistra non è riuscito a mettere in piedi un'alleanza che poteva avere i numeri per poter pensare di vincere ma comunque il risultato ripeto è chiaro il centro-destra ha vinto queste lezioni ora i problemi da affrontare a livello nazionale nel paese sono veramente tanti il problema del caro bolletto, il problema energia, il problema del lavoro, il problema dei giovani il tema di pensare a un nuovo stato sociale quindi diciamo che le sfide sono veramente tante per quanto mi riguarda cercheremo di dare il nostro contributo nell'interesse di tutti i cittadini perché comunque anche il ruolo dell'opposizione è un ruolo importante bisogna svolgerlo al meglio quello che ci deve guidare appunto è cercare di fare scelte o di condividere o contrastare quelle scelte che non andremo a condividere sconfitta dolorosa e pesante il commento a caldo del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che oltre ad augurare una buona gestione del governo a Meloni ovviamente nell'interesse del paese rimanda all'incompiutezza dell'alleanza il principale motivo dell'insuccesso del centro-sinistra preoccupato invece della scarsa affluenza alle urne il segretario comunale del PD Giampiero Bellucci che conferma però come il Partito Democratico a Pesaro abbia raccolto la stessa percentuale del 2018 mantenendosi al primo posto e restando il partito di riferimento per tanti cittadini e chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle elezioni per cambiare argomento e ricordarvi che domani sarà lutto cittadino a San Lorenzo in campo e a Barbara dove si terrà il funerale del piccolo Mattia Luconi dodicesima mittima dell'alluvioni che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre il corpo esanime del bimbo di otto anni era stato ritrovato venerdì 23 settembre nel pomeriggio in un terreno agricolo di Passoripe di Trecastelli a 13 chilometri dal punto dell'impatto dopo otto lunghi giorni di ricerche i funerali di Mattia si terranno dunque domani martedì 27 settembre alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria Assunta nelle comune di Barbara ricordiamo che si sta ancora cercando l'ultima dispersa ovvero la 56enne Brunella Q passiamo ora alla cronaca di Pesaro con l'intervento di ieri pomeriggio dei vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio che si è creato all'interno dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto un incendio doloso visto che sono state date alle fiamme carte e stracci che hanno attirato l'attenzione dei residenti di via Mollabella che hanno subito avvertito i pompieri sul posto anche la polizia municipale che insieme ai carabinieri sta indagando per capire chi ha appiccato il fuoco un focolaio di covid ha colpito la casa padre Damiani di Pesaro sono infatti tre gli ospiti risultati positivi a seguito di alcuni sintomi e di conseguenza la struttura ha messo in isolamento nelle proprie camere tutti gli 80 residenti per evitare che l'epidemia si espandesse una serie di contagi improvvisi dopo che il 15 settembre scorso ai pazienti era stata somministrata la quarta dose del vaccino nella giornata di ieri le operazioni di voto avvenute all'interno della casa di riposo sono state blindate con tanto di scrutinio messo a disposizione dei 30 residenti che hanno richiesto di votare e dopo nove giorni dalla terribile alluvione il ristorante delle Furlo la Ginestra ha riaperto il suo locale celebrandolo con un secondo taglio del nastro una seconda inaugurazione che sa tanto di ripartenza dopo i giorni complicati passati dai proprietari nel ripulire il locale da fango e detriti e portando invece in tempi da record all'aria apertura della stessa struttura ricordiamo che oltre allo staff del ristorante erano presenti il sindaco di Acqualagna Luca Lisi e anche il consigliere regionale Giacomo Rossi assieme al rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini ed è invece stata una edizione da record la 32esima regata del Patrono con ben 33 barche iscritte fra cabinate e derive a Pesero nella gara Open che prevedeva due giri attorno alla boa posta Fosso Signore la gara è stata sempre condotta da Mr. X dello skipper Gabriele Percetti che ha tagliato per primo il traguardo in due ore e 32 minuti nella regata Vene Bianche con un solo giro attorno alla boa di Fosso Signore il successo è invece andato alla gazza ladra di Claudio Crescentini ed ora vi segnaliamo un evento unico nel suo genere organizzato da Fisioradi Medical Center ad un anno dalla inaugurazione del nuovo centro giovedì 29 settembre infatti Maurizio Radi accoglierà una personalità di livello planetario come Barry Sears ideatore della dieta zona L'appuntamento di giovedì sera è un appuntamento importante perché parliamo dell'importanza dell'alimentazione nell'attività sportiva quindi come la migliore alimentazione, il mangiare bene possa aiutare qualsiasi sportivo, non solo il professionista ma anche lo sportivo diciamo amatoriale, dilettantistico o giovanile per cercare di avere migliore energia o recuperare meglio quando facciamo attività sportiva un evento a cui ci teniamo tanto riportiamo il dottor Barry Sears a Pesaro a distanza di tre anni era venuto qua nell'ottobre 2019 e poi come tutti sappiamo cosa è successo nel 2020 quindi il dottor Barry Sears non è più tornato in Europa non si è più mosso dagli Stati Uniti quest'anno ha deciso di ritornare noi con piacere l'abbiamo di nuovo ospitato a Pesaro perché siamo curiosi di vedere, di sentire quali consigli ci può dare a noi che lavoriamo in questo ambiente di riabilitazione quindi con tanti sportivi ma a tutti gli appassionati di sport tutti quelli che vogliono venire giovedì sera ad ascoltarlo perché l'evento è un evento gratuito un evento a ingresso libero la cosa che chiediamo è se per cortesia chi fosse interessato magari si può prenotare presso il nostro centro Fisioradi Medical Center mandandoci un'email a eventi-fisioradi.it oppure sulle locandine o sulla pagina Facebook trovate anche un numero telefonico di un cellulare dove potete chiamare o mandare un messaggio su Whatsapp quello che diciamo e quello che voglio dire a chi ci ascolta non perdete questo evento perché personaggi del calibro di Barry Sears non è semplice, non è facile averli sempre a portata di mano posso dire che lui è un grandissimo esperto perché non è un medico qualunque è un ricercatore, un biochimico ha studiato tanto per tutto quello che possa essere l'alimentazione sia da un punto di vista di pazienti o da un punto di vista di sportivi quindi il suo metodo ha dato tanti risultati a persone che avevano patologie ma ha dato tanti risultati anche a noti sportivi basta solo pensare che nel 2010 è stato un consulente della Garmin Cervelo squadra professionistica americana prima e durante il Tour de France in questa occasione hanno visto insieme al medico al nutrizionista, al chiropratico della squadra i risultati cambiando alimentazione quindi sono passati non più pensando a quello che ormai tutti credevano che un atleta ciclista professionista doveva assumere 8000 calorie per fare un giro a tappe di così tanti giorni, di così tante difficoltà ma l'importante era come mangiavano e un equilibrio tra gli alimenti quindi un equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi questo ha portato dei buoni risultati perché poi in quella squadra, quell'anno c'era il campione del mondo norvegese Thor Usford e c'era anche David Miller quindi atleti professionisti di grosso calibro che cambiando alimentazione seguendo i consigli di Barry Sears hanno poi avuto notevoli risultati e sono ancora di più migliorati nelle loro prestazioni Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo come di consueto la nostra prima serata che in questo lunedì 26 settembre è dedicata ad una nuova puntata della TV dei viaggi che per l'occasione sarà dedicata al fantastico territorio di Cuba appuntamento dunque questa sera alle 21.20 con la TV dei viaggi e poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale come di consueto domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene sempre compagnia ogni mattina dal lunedì al sabato e per l'occasione in questo martedì 27 settembre sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi